Sì, buongiorno a tutti, sono Irene Villa e insieme a Carla presentiamo oggi questo seminario. L'idea è darvi un po' un'idea generale di che cos'è la Functional Encryption, quindi procediamo. Allora, in questo seminario l'idea è darvi un'introduzione generale della Functional Encryption, introdurremo quindi alcune definizioni, parleremo di alcune nozioni di sicurezza utilizzate all'interno di schemi di Functional Encryption e alcune nozioni e assunzioni matematiche utilizzate. Dopodiché andremo a parlare della classe principale di schemi di Functional Encryption chiamati Predicate Encryption e introdurremo gli schemi di Predicate Encryption con indice pubblico e poi quelli con indice privato. Parleremo anche di alcuni schemi o introdurremo anche schemi che vanno oltre i predicati e per finire parleremo di alcune caratteristiche extra che gli schemi di Functional Encryption possono avere. Carla, facciamo che vai avanti tu perché non va il controllo molto bene. Ok, quindi quando parliamo di criptografia di solito la dividiamo in due o parliamo di criptografia simmetrica, quindi la stessa chiave viene utilizzata per fare la cifratura e la decifratura di un messaggio, o parliamo di criptografia asimmetrica, detta anche public key criptografia, criptografia chiave pubblica. Nella prossima slide ci focalizziamo qui sulla criptografia chiave pubblica, introdotta nel 76. RSA è uno degli schemi più famosi di criptografia chiave pubblica e ha diverse e differenti applicazioni, ad esempio nella comunicazione su web o nei servizi di cloud. Come detto è una criptografia chiave pubblica perché è caratterizzata dall'avere due chiavi distinte. Una chiave pubblica PK che è utilizzata per fare la cifratura di un messaggio e una chiave privata o segreta SK usata per fare la decifratura di un messaggio. L'avere queste due chiavi ci permette a due utenti di essere in grado di comunicare in modo sicuro su un canale senza aver bisogno a priori di conoscere già un segreto, di avere già un segreto in comune. Possiamo caratterizzare la criptografia a chiave pubblica in diversi modi. Qua vogliamo sottolineare due aspetti. Il primo aspetto è il fatto che è all or nothing, tutto o niente. Nel senso che se io ricevo un messaggio cifrato o posseggo la chiave segreta e quindi sono in grado di decifrare il messaggio e quindi leggere completamente il messaggio segreto originario, oppure se io non posseggo questa chiave segreta, allora non riesco a conoscere nessun'altra informazione circa il messaggio originario che già non conoscevo. Quindi in questo senso tutto o niente. L'altro aspetto che vogliamo sottolineare qui è il fatto che ad ogni cifratura corrisponde per cifrare, io cifro un messaggio, voglio cifrare un messaggio e inviare questo messaggio a cinque diversi utenti. Come faccio a farlo? O faccio in modo che questi cinque diversi utenti abbiano tutti la stessa chiave segreta e quindi io faccio una sola cifratura, invio lo stesso messaggio cifrato a questi cinque utenti e loro sono in grado di decifrarlo e quindi di leggere il messaggio originario, oppure devo fare cinque diverse cifrature, ognuna specifica per la chiave segreta che ciascun utente ha. Questo quindi invio ciascuna singolo messaggio cifrato ad ogni utente e questo utente è in grado quindi di leggere il messaggio originario. In questo senso se io voglio inviare un messaggio a diversi utenti la chiave pubblica può essere complicata perché ad ogni cifratura c'è associata una sola chiave privata. Quindi quello che volevamo sottolineare con queste due caratteristiche è che ci sono alcuni problemi, alcune situazioni in cui utilizzare la crittografia a chiave pubblica non è ottimale. Qua c'è una lista di diversi esempi, ad esempio il primo è l'esempio dello spam filtering. Immaginiamo che ho un server che mi gestisce le email e su questo server le mie email sono criptate perché non voglio che il server le possa leggere. Però vorrei che questo server iniziasse a fare un filtro iniziale selezionando le mail di spam e mettendole nel cestino. Però se queste email sono cifrate il server non è in grado di farlo, a meno che io gli do la chiave privata e a questo punto però vuol dire che il server è in grado di leggere tutto il contenuto delle mail. Oppure anche fare operazioni su dati cifrati o anche fare una ricerca su dati cifrati. Questo con la crittografia a chiave pubblica può essere complicato. Per questo motivo entra in gioco la crittografia funzionale, functional encryption, introdotta nel 2005 e formalizzata più avanti nel 2010. Questa functional encryption ci permette due cose. Prima ci permette un controllo degli accessi a grana fine, nel senso che noi possiamo specificare in modo più dettagliato chi può avere accesso al dato cifrato, alla decifratura, a decifrare il dato e chi no. E l'altro aspetto è il fatto che possiamo anche fare in modo che chi decifra il dato non legge tutto il messaggio originario, ma legge una sua funzione. Iniziamo con qualche definizione un po' più formale. Che cos'è una funzionalità? Una funzionalità è una mappa che mi prende un elemento di k e un elemento di x e mi restituisce un terzo elemento. Con k indichiamo l'insieme delle chiavi, con x indichiamo l'insieme dei plaintext e inoltre aggiungiamo che in k c'è una chiave speciale che chiamiamo empty key. Questa funzionalità F ci descrive praticamente tutte le funzioni del nostro plaintext che noi siamo in grado di leggere o siamo in grado di ottenere, partendo dal ciphertext. E inoltre abbiamo questo simbolo speciale perpendicolare che denota il fallimento, il failure dell'algoritmo. Quindi definiamo uno schema di functional encryption nel seguente modo. Abbiamo quattro algoritmi PPT, dove PPT sta per probabilistic polynomial time. Abbiamo questi quattro algoritmi così descritti. Prima c'è il setup. Al setup diamo in input un parametro di sicurezza e questo algoritmo ci restituisce in output due chiavi. Una chiave pubblica PK e una master secret key MK. Poi abbiamo il key generation, a cui diamo in input la chiave segreta, la master key segreta MK. Gli diamo in input anche una chiave K nell'insieme delle chiavi e questa ci restituisce la corrispondente chiave segreta SK indicizzata K. Abbiamo l'encryption, in cui gli diamo in input la chiave pubblica PK. Gli diamo in input anche un plaintext X e questo ci restituisce il corrispettivo ciphertext C. E infine abbiamo il decryption. Al decryption diamo in input un ciphertext e gli diamo in input una chiave segreta SK di K e questo ci restituisce un elemento Y. E abbiamo che lo schema è corretto se data la chiave segreta SK di K e il ciphertext di un plaintext X l'output della decryption è proprio F valutata in K e X. Questo con probabilità 1 o con probabilità vicino ad 1, diciamo. Per capire un po' meglio quanto detto vediamo questa slide in cui in questo caso abbiamo l'autority. L'autority è in grado di fare il setup del sistema quindi ci genera due chiavi, la chiave pubblica e la master key. La chiave pubblica in questo caso vuole renderla accessibile a tutti quindi la metterà su cloud. E inoltre l'autority è anche in grado di operare, di generare le chiavi. Quindi dato in input una chiave del key space K questa ci genera una chiave segreta SK con K. E poi abbiamo Alice che ha il suo messaggio X lo vuole cifrare quindi lo cifra e ottiene un ciphertext C. A questo punto Alice invia il ciphertext C a Bob Bob fa la richiesta di una chiave segreta dall'autority quindi ottiene SK con K e a questo punto Bob è in grado, dati questi due elementi di fare la decryption e quindi leggere F valutata in KX. L'esempio più semplice di functional encryption è proprio la standard public key cryptography. In questo caso consideriamo un key space composto solo da due chiavi uno è l'empty key epsilon e definiamo una functionality, una funzionalità nel seguente modo. Presa in input una chiave IK e un plaintext X questa funzionalità ci restituisce X se K è uguale a 1 altrimenti ci restituisce ad esempio la lunghezza di X questo quindi quando K è uguale all'empty key. E utilizzando questa funzionalità riusciamo a descrivere l'azione della public key cryptography e notiamo che l'empty key, questo valore epsilon ci cattura, ci restituisce tutte le informazioni che noi in un certo qual modo sapevamo già circa il ciphertext. Ad esempio, ipotizziamo che usiamo un algoritmo di cifratura che dato un plaintext ci restituisce un ciphertext della stessa lunghezza perché l'algoritmo è fatto così. Allora, se noi un avversario vediamo un ciphertext sappiamo già qual era la lunghezza del plaintext quindi abbiamo già una prima informazione riguardo al plaintext ma questa è un'informazione che è rivelata intenzionalmente quindi Epsilon caratterizza e ci restituisce un'informazione che già noi sapevamo riguardo al plaintext. Abbiamo dato alcune prime definizioni di functional encryption ma non abbiamo detto che cosa vuol dire per uno schema di functional encryption essere sicuro. L'obiettivo principale di uno schema è che deve essere resistente ad attacchi di tipo collusion. Per capire cos'è un attacco di tipo collusion vediamo direttamente un esempio per renderlo più semplice. ipotizziamo che vogliamo cifrare un messaggio X questo messaggio che vogliamo cifrare però vogliamo soltanto che persone con determinati attributi siano in grado poi di leggerlo e gli attributi che vogliamo sono da una parte che questo utente deve avere più di 30 anni e dall'altra parte vogliamo che questo utente sia un cittadino italiano. e poi abbiamo due avversari Mario e Luigi. Mario è caratterizzato dall'essere un uomo male ed essere un cittadino italiano. Invece Luigi è caratterizzato dai seguenti attributi avere più di 30 anni ed essere un cittadino di San Marino. Ora vogliamo che il nostro schema sia sicuro nel seguente modo che anche se Mario e Luigi iniziano a collaborare e cercano di mettere insieme le informazioni che hanno non devono essere in grado di ottenere nessun'altra informazione circa il plaintext non devono essere in grado di decriptare il plaintext anche collaborando assieme. Questo è il significato di essere resistenti a attacchi di tipo collusion. Ci sono diverse definizioni di sicurezza nella prossima slide ne presenteremo due. La prima è la indistinguishability based security. In questo caso per definire questa nozione introduciamo un gioco un gioco per un avversario A e definiamo B un bit scelto random. Quindi l'avversario A deve partecipare a questo gioco. Nella prima fase del gioco c'è il setup. C'è un'autorità che fa il setup del sistema ed ha all'avversario A la chiave pubblica. Poi c'è la prima fase di query. In questa fase l'avversario può mandare delle richieste all'autority. L'avversario seleziona delle chiavi in modo adattivo KI nel key space manda delle richieste, delle query all'autority e quest'autority gli restituisce le corrispettive chiavi segrete SK con I. Nella fase di challenge a questo punto l'avversario seleziona due messaggi M0 e M1. Questi messaggi devono comunque soddisfare delle restrizioni. Deve fare in modo che date le chiavi segrete che già il nostro avversario possiede l'avversario non deve essere in grado di distinguere i due messaggi. Per cui dati questi due messaggi M0 e M1 l'avversario invia questi due messaggi all'autority l'autority ne seleziona uno random quindi seleziona il messaggio M con B e restituisce all'avversario la cifratura di questo messaggio M con B. A questo punto abbiamo la seconda fase di query. è uguale alla prima fase in cui l'avversario manda all'autorità delle richieste di chiavi e questa gli restituisce delle chiavi segrete SK con I. Di nuovo queste però queste chiavi devono soddisfare la restrizione enunciata nel punto precedente. Nell'ultima fase c'è il guess. A questo punto date tutte le informazioni che l'avversario possiede dell'avversario deve cercare di indovinare qual è il valore del bit B. Fa il suo guess quindi manda manda in output un bit B' e l'avversario vince il gioco se questo bit B' è uguale a B e perde il gioco se B' è diverso da B. Ora vogliamo che il nostro diciamo che il nostro schema è in distinguishability based secure se la probabilità che un avversario vince un gioco di questo tipo è vicino a un mezzo quindi più o meno è come se l'avversario avesse indovinato a caso. Un'altra nozione di sicurezza è la simulation based security. In questo caso diciamo che uno schema è simulation based secure se è possibile approssimare l'azione di un avversario attraverso un simulatore cerchiamo di spiegarci meglio vediamo il box qua riquadrato abbiamo A di nuovo che è il nostro avversario all'avversario diamo le seguenti informazioni gli diamo il valore della chiave pubblica gli diamo un insieme di chiavi segrete SK con uno SK con L per chiavi K1 e KL di sua scelta e poi gli diamo anche il valore di un messaggio cifrato quindi l'encryption di X ora noi assumiamo che esiste un algoritmo B questo algoritmo chiamato simulatore per cui se diamo a B la chiave pubblica e direttamente il valore della funzionalità F valutata nelle chiavi K1 e KL e nel plaintext X allora il simulatore B è in grado di darci in output tutte le informazioni circa il plaintext X che già l'avversario A ci aveva detto quindi vuol dire che tutto quello che l'avversario riesce a conoscere è la stessa cosa che anche un simulatore riesce a conoscere circa il plaintext B e questa qua è la definizione di simulation based secure ora per dimostrare che uno schema è sicuro per una determinata definizione o nozione di sicurezza di solito si fa così si guarda come è definito lo schema si analizza e si arriva alla conclusione che lo schema è sicuro se e soltanto se un certo problema matematico è difficile da risolvere e questo si chiama assunzione e gli schemi di functional encryption si basano su diversi tipi di assunzione almeno che abbiamo visto noi nella letteratura presente principalmente abbiamo trovato schemi che si basano su diversi problemi sui gruppi bilineari quindi sui pairings abbiamo trovato anche parecchi schemi che si basano su learning with error problem però abbiamo anche trovato alcuni schemi che si basano su altri problemi come il quadratic residuosity o il multivariate quadratic polinomial problem ed altri ora brevemente giusto per darvi una idea descriveremo un paio dei principali problemi che si possono vedere quindi partiamo con i gruppi bilineari cos'è un gruppo bilineare? un gruppo bilineare è la seguente tupla P, G1, G2, Gt e dove P è un primo G1, G2, Gt sono gruppi ciclici di ordine P di solito vengono considerati come gruppi moltiplicativi e assumiamo anche che fare le operazioni su qualsiasi di questi gruppi si possono fare le operazioni su questi gruppi in modo efficiente e poi alla fine infine E è una mappa che va da G1 per G2 in Gt ed è una mappa bilineare quindi la relazione di bilinearità è sempre soddisfatta e inoltre abbiamo anche che è una mappa ammissibile e questo vuol dire che E le operazioni si può valutare E in modo efficiente ed inoltre E è non del genere quindi non tutta l'immagine di E coincide con l'identità di Gt e in esempi pratici le mappe bilineare di solito si basano su versioni modificate del pairing di Veil o su versioni modificate del pairing di Tate che sono definite sui punti di una curva ellittica e parlando di gruppi bilineari ci sono diversi differenti problemi che si basano su questi gruppi ad esempio il decisional di Fielman problem per il gruppo G1 che ci chiede il seguente ci dice il seguente problema ci vengono dati tre elementi G G alla A e G alla B per G un elemento di G1 e A B presi random in ZP e poi ci viene chiesto di distinguere tra due elementi da una parte G alla A per B e dall'altra parte G alla C con C un elemento di nuovo random in ZP quindi il problema sta nel saper distinguere un elemento di questi due elementi però se assumiamo che esiste una mappa ammissibile bilineare da G1 per G2 scusate da G1 per G1 in GT allora questo problema non è difficile è facile da risolvere infatti possiamo valutare E in G alla E G alla B che coincide con valutare E in G alla A per B e G e quindi sapendo potendo valutare questo elemento siamo in grado in modo semplice e veloce di valutare se l'elemento che ci viene dato è della forma G alla A per B o è della forma G alla C per cui il decisional di Fjellman problem non può essere usato se si assume che esiste una mappa bilineare ammissibile dentro negli schemi di sicurezza ma vengono utilizzate delle modifiche di questo problema ad esempio la variante bilineare che ci chiede ci dice il seguente ci vengono dato ora quattro elementi G G alla A G alla B e G alla C di nuovo G preso in G1 e A B e C scelti random in Z a P e poi ci viene dato un quinto elemento e dobbiamo essere in grado di distinguere se questo elemento è un elemento random in G alla T oppure è un elemento della forma E valutato in GG elevato all'ABC o un altro problema è il decisional linear problem in questo caso invece ci viene dato questa lunga tupla dove G sta in G1 H sta in G2 e poi abbiamo degli interi ABC scelti random in Z a P ora ci viene dato un elemento extra e ci viene chiesto di decidere di distinguere se questo elemento extra è un elemento random di G1 oppure un elemento della forma G alla C più D questi sono già solo un paio di esempi dei possibili problemi che si possono riscontrare parlando di gruppi bilineari il secondo gruppo di problemi che vi ho menzionato è il learning with error problem Carla puoi andare avanti io sono avanti non so mi sei bloccato vabbè vuoi provare a fare la condivisione tu scusate che il mio internet a volte si blocca anche a me è bloccato il problema precedente allora faccio interrompi condivisione ci riprovo o puoi farlo direttamente tu vai riprova tu perché tanto è pieno ora alla fine ora avete learning with error ancora no abbiamo visto c'è l'avviso che hai cominciato a condividere però ancora non non arriva puoi provare tu Irene sì un secondo un secondo non potresti farlo tu Marco se tu lost sì io posso provare con il pdf che ha messo il problema è che è un powerpoint quindi alcune cose si rischia che non si vedano beh provo io vedo se vediamo se eccola io la vedo vedete sì ok quindi il secondo problema su cui abbiamo trovato si base la maggior parte degli schemi è learning with error probabilmente molti di voi già l'hanno visto sicuramente ne sanno più di me solo brevemente lo accenno dato un intero Q è dato una distribuzione d'errore Q su ZQ il problema decisionale learning with error è il seguente dobbiamo essere in grado di distinguere tra due diverse distribuzioni da una parte abbiamo A e A per S più X dall'altra parte abbiamo A e U dove A è una matrice scelta random S e U sono due vettori scelti random e X è un vettore scelta random ora sulla distribuzione di errore tra come avevo accennato prima la classe principale degli schemi di functional encryption è la classe degli schemi di predicate encryption e questa gli schemi di predicate encryption ci permettono di avere di definire in modo più dettagliato un controllo degli accessi ad esempio ci permettono di fare una ricerca su dati cifrati e in schemi di predicate encryption abbiamo che una chiave decifra scusate in modo corretto se soltanto se le informazioni incorporate all'interno di un ciphertext soddisfano un predicato che è incorporato all'interno di una chiave cerchiamo di dare delle definizioni più formali prima di tutto cos'è un predicato un predicato è una funzione a valori booleani che è data un elemento di un insieme a ci restituisce o 0 o 1 dove con 0 o 1 indichiamo i valori logici di falso e vero con un predicato noi possiamo descrivere differenti richieste differenti queries ad esempio con un predicato siamo in grado di chiedere di verificare un'uguaglianza quindi verificare se A è uguale a B o verificare se A appartiene a un sotto insieme se A è minore o uguale di un altro elemento oppure anche valutazioni disgiuntive o congiuntive ad esempio verificare se A è uguale a B oppure se A è uguale a C o anche verificare se A è uguale a B e se A' è uguale a C quindi formalmente uno schema di predicate encryption è definito come segue un plaintex viene visto come una coppia di elementi da una parte abbiamo ind che è chiamato un indice e dall'altra parte abbiamo M che è il payload e uno schema di predicate encryption è definito in termini di un predicato P che prende in input una chiave dello spazio delle chiavi è un indice e ci restituisce o zero o uno e la funzionalità è quindi definita data una chiave e data un payload ind M ci restituisce M quando il valore del predicato è uno oppure il failure dell'algoritmo quando il valore del predicato è zero quindi data un ciphertext per un plaintext di questo tipo è data una chiave segreta SK con K abbiamo che se il valore del predicato è uno allora con la decryption noi leggiamo il payload message M altrimenti se il valore del predicato è zero con la decryption noi non impariamo niente di nuovo circa M gli schemi di predicate encryption si possono dividere a seconda che l'indice sia leggibile in chiaro sul ciphertext o no nel primo caso parliamo di schemi a indice pubblico e nel secondo caso invece parliamo di schemi a indice privato quindi ricapitolando abbiamo la functional encryption che si suddivide in schemi di predicate encryption con indice pubblico schemi di predicate encryption con indice privato e poi abbiamo gli schemi che vanno oltre ai predicati nel primo caso ci sono gli schemi che sono più studiati e più noti che sono gli identity based encryption e l'attribute based encryption negli schemi di predicate encryption con indice privato abbiamo l'anonymous ebay lead and vector encryption e linear product predicate encryption e per finire negli schemi che vanno oltre il predicato abbiamo linear product encryption e anche altri schemi bene quindi quello che vorrei fare ora è raccontarvi brevemente ciascuno di quegli schemi che che a me che che vi ha fatto vedere nella classificazione Irene raccontando semplicemente però quali sono le proprietà e qual è l'obiettivo di ciascuno di quegli schemi senza entrare ovviamente nei dettagli allora il primo schema che possiamo menzionare è l'identity based encryption e questo nasce da un'idea di Shamir del 1984 che voleva semplificare i certificati nella posta elettronica e quindi l'idea di Shamir è Alice vuole inviare un'email a Bob allora per cifrare l'email da inviare a Bob utilizza l'indirizzo di posta elettronica di Bob senza richiedere alcun certificato una volta che Bob riceve l'email cifrata per decifrarla si dovrà rivolgere a un public generator che gli darà la chiave per poter decifrare l'email nel 2001 iniziano vi sono i primi effettivamente sistemi pratici di identity based encryption e sono dei lavori di Bonnie Franklin e Cox quindi l'idea che ci sta dietro è che il plain text al plain text e quindi al ciphertext è associata una stringa questa stringa rappresenta l'identità rispetto alla quale cifriamo ma è l'identità secondo che noi vogliamo che poi in futuro possa effettivamente decifrare mentre al decifratore quindi a chi richiede la chiave segreta e alla chiave segreta stessa è associata un'altra stringa quindi la sua identità e la decifratura avverrà solo se le due identità coincidono perfettamente quindi il predicato restituirà uno se le due identità coincidono zero altrimenti allora il il secondo schema invece che vediamo è l'attributo based encryption e questo è stato introdotto nel 2005 e l'idea è che sia un'estensione dell'identity based encryption infatti se ci pensate nell'identity based encryption risolve un po' di problemi della public key cryptography ma non poi così tanti infatti non abbiamo un accesso differenziato in base agli utenti quindi quello che facciamo è associare degli attributi e delle polisi di accesso ai testi cifrati e alle chiavi segrete una polisi di accesso possiamo vederla ed è rappresentata come una formula booleana che coinvolge le operazioni logiche and or not e l'operazione di soglia su un insieme di attributi il primo schema che viene considerato di Abe si chiama fazibe che è stato introdotto nel 2005 e l'idea è che sia al ciphertext che alla chiave privata viene associato un insieme di attributi e la decifratura potrà avvenire solamente se i due insiemi di attributi che possiamo immaginare che rappresentino delle identità se ci riferiamo allo schema precedente quindi si potrà decifrare solo se questi due insiemi sono sufficientemente vicini o se possiamo dire hanno un'intersezione sufficientemente grande quindi se la loro intersezione è maggiore di una certa soglia di quindi questa questa soglia che introduciamo permette un minimo di tolleranza dell'errore e quindi si sposa bene in applicazioni in cui viene per esempio in cui c'è l'autenticazione per esempio biometrica e il fazibe viene utilizzata anche come base per altri schemi Abe successivamente nel 2006 è stato presentato il primo key policy quindi key policy vuol dire che alla chiave segretta viene associata una policy di accesso mentre al testo cifrato viene associato un insieme di attributi quindi la decifratura potrà avvenire se solo se l'insieme di attributi che sono incorporati nel testo cifrato soddisfano la policy di accesso che è incorporata nella chiave segreta notiamo che in questo caso il possessore del dato e quindi chi ha cifrato in realtà ha un potere limitato un controllo limitato su chi effettivamente potrà decifrare perché lui decide solamente gli attributi da associare al testo in chiaro e quindi al testo cifrato ma le policy e quindi diciamo le chiavi vengono rilasciate dall'autorità quindi in questo caso a poco a poco controllo nel 2007 è stato introdotto il ciphertext policy in cui vengono invertiti il ruolo di cifrato e chiave segreta e quindi nel cifrato viene incorporata la policy di accesso mentre alla chiave segreta è associato un insieme di attributi e un testo potrà essere un cifrato potrà essere decifrato da una chiave e quindi da un utente se è solo se i suoi attributi soddisfano la policy di accesso quindi abbiamo che in questo caso il proprietario del dato che quindi è colui che ha cifrato può determinare le policy di accesso e determinare le policy di accesso è come dire decide chi può decifrare ovviamente definendo una policy non definendo esattamente le persone ma una policy che descriva chi ha diritto a decifrare e chi no un altro vantaggio rispetto al key policy è che se la policy ha bisogno di essere aggiornata allora è sufficiente aggiornare la policy all'interno del testo cifratto senza bisogno di dover ridistribuire le chiavi quindi le chiavi che prima decifravano magari ora non potranno più decifrare e viceversa in che modo avviene la decifratura può avvenire in due modi o prendiamo il testo cifratto lo decifriamo e lo ricifriamo rispetto a una nuova policy oppure ci sono degli schemi più avanzati come la proxy re-encryption che permettono di prendere un testo cifrato rispetto a una policy e senza decifrarlo ricifrarlo nuovamente rispetto a una nuova policy quindi vediamo due esempi pratici di come funziona un key policy e un ciphertext policy Allora nel primo caso possiamo immaginare che ci sia un un sito che distribuisce contenuti digitali film serie tv e così via e i contenuti vengono cifrati allora in che modo vengono cifrati questi attributi gli vengono questi contenuti gli vengono associati degli attributi che caratterizzano il contenuto stesso per esempio un film francese e un film horror ci sono almeno tre stagioni e così via allora se un utente vuole vedere un determinato show che rispetta certe caratteristiche può farsi rilasciare una chiave segretta in cui vi è incorporata una policy del tipo non film britannico e medical drama or comedy e almeno due due stagioni in questo modo qua solamente i film o le serie tv che soddisfano questa policy verranno decifrate e quindi saranno fruibili dall'utente mentre nel momento nel ciphertext policy quello che abbiamo è che nel testo cifrato non ci sono degli attributi che caratterizzano il testo in chiaro ma ci sono delle policy quindi immaginiamo di avere dei testi particolarmente sensibili e di cui ci interessa la segretezza e vogliamo autorizzare solo determinate persone all'accesso questi dati sensibili allora possiamo immettere per esempio una policy in cui scriviamo che solamente le persone che non lavorano a Trento e non lavorano nel dipartimento di vendita oppure che hanno un certo livello di sicurezza superiore a una certa soglia possono avere accesso a determinati file quindi quello che abbiamo visto ora sono gli schemi di IBE-ABE e sicuramente gli schemi di IBE-ABE soddisfano un controllo particolare ABE soddisfano un controllo sugli accessi quello che però rivelano è l'indice cioè gli attributi o le policy che sono incorporate nel testo cifratto quindi ora vedremo degli schemi di predicate encryption in cui l'indice è privato allora il primo che vediamo è l'anonimo SIBE l'anonimo SIBE è identico all'IBE che abbiamo visto prima ma la differenza è che l'identità contenuta nel cifratto è segreta quindi l'identità rispetto alla quale è stato cifrato un messaggio un testo verrà rivelata solo se effettivamente questo testo viene decifrata qual è l'utilità degli anonimo SIBE è quella per esempio di costruire degli schemi di chiave pubblica in cui si può fare la ricerca per parole chiavi quindi ci immaginiamo che invece di associare delle identità associamo delle parole chiavi contenute all'interno di un documento allora se io ho la chiave che contiene una certa parola chiave e il testo è stato cifrato rispetto a una certa parola chiave allora solamente se le due parole chiave coincidono potrò decifrare quel testo e quindi in questo modo qua sto appunto facendo una una query di ricerca sul testo senza prima decifrarlo l'altro schema che vediamo è l'idea in vector encryption che è stato introdotto nel 2007 e l'idea è che le chiavi siano dei vettori siano dei vettori di lunghezza n in cui ogni componente è una stringa di lunghezza arbitraria oppure è un carattere che possiamo chiamare jolly e questo carattere negli articoli normalmente lo chiamano come il carattere I don't care c'è un carattere vedremo che in realtà quando c'è quel carattere lì è come se quella componente non ci interessasse lo spazio degli indici è uguale allo spazio sopra allo spazio delle chiavi con l'unica differenza che il carattere jolly non c'è è il predicato prende in input una chiave prende in input l'indice e fra il confronto componente per componente chiave indice purché la componente della chiave sia diversa dal carattere jolly quindi le due componenti devono essere uguali non ci interessa invece nel caso in cui la componente della chiave è uguale al jolly a cosa ci servono questi schemi di ident vector encryption ci servono per costruire degli schemi che supportano dei predicati di per esempio valutazione di ugualianze congiuntive di confronto di operazioni di appartenenza di sotto insiemi e combinazioni congiuntive di tutti di tutte le query che vi ho detto sopra l'ultimo esempio che vediamo di predicate encryption con indice privato è quello che viene chiamato l'inner product predicate encryption che è stato introdotto nel 2008 allora l'idea è che al cifrato e alla chiave segreta venga associato un vettore di lunghezza n allora il predicato restituirà 1 quindi true se e solo se i due vettori sono ortogonali quindi se e solo se l'inner product tra i due vettori è uguale a 0 è il linear product predicate encryption è utile per costruire degli schemi di anonimusive e di hidden vector encryption e quindi supporterà tutte le query che vi ho detto della hidden vector encryption più forme normali disgiuntive forme normali congiuntive e valutazioni di polinomi con con grado fissato quindi quello che abbiamo visto finora abbiamo visto degli schemi predicate encryption con indice pubblico schemi di predicate encryption con indice privato ma tutto quello che abbiamo visto ora come output della fase di decryption è il messaggio cioè l'intero messaggio viene rivelato se il predicato restituisce vero e quindi in realtà ancora non abbiamo visto neanche un esempio di functional encryption perché il nome stesso di functional encryption ci suggerisce che vogliamo calcolare una funzione del messaggio e è lo schema diciamo il primo schema vero di functional encryption dove per vero intendo che il risultato della decryption è una funzione del testo del testo in chiaro è stato introdotto nel 2015 e l'idea è che sia alla chiave che al testo cifrato viene associato un vettore e la funzionalità che quindi è l'output della decryption restituisca il prodotto scalare linear product tra i due vettori allora osservate che questo schema qui è differente da quello precedente perché quello precedente abbiamo detto se il prodotto scalare tra i due vettori è zero allora decifra e ottieni tutto il tuo messaggio ora stiamo dicendo che il risultato della mia decifratura è sempre il prodotto scalare indipendentemente da quanto è questo valore quindi se io sono in possesso di una chiave l'output sarà il prodotto scalare tra il messaggio tra il vettore associato al testo cifrato e la chiave associata alla mia chiave segreta quindi l'inner product functional encryption ha diverse applicazioni applicazioni nell'identificazione biometrica nel machine learning nelle analisi statistiche quindi un esempio può essere questo supponiamo che ci sia un ospedale che voglia dare i dati dei suoi pazienti a un istituto di ricerca per poter effettuare delle opportune analisi analisi statistiche ovviamente essendo dati sensibili l'ospedale non può rilasciare in chiaro i dati in suo possesso quindi quello che fa è cifrare i suoi dati e li cifra rispetto a un certo vettore quindi quando il dato cifrato viene fornito all'istituto di ricerca l'istituto di ricerca può se è in possesso ovviamente della chiave di decifratura della chiave segreta può calcolare il prodotto scalare tra i dati che ha ottenuto però cifrati senza mai vederli in chiaro è un vettore associato alla sua chiave quindi per esempio può calcolare la media di certi valori senza vedere effettivamente in chiaro mai i valori di cui sta calcolando la media ci sono altri schemi che hanno come risultato delle funzioni sono relativamente pochi e sono degli schemi che calcolano delle funzioni quadratiche poi ci sono degli schemi che calcolano dei circuiti arbitrari ma non utilizzano delle assunzioni standard e poi ci sono qualche schema per determinati circuiti sotto però assunzioni standard oltre a questi schemi che vi abbiamo raccontato ci sono tantissimi lavori che cercano di raccogliere di potenziare alcune proprietà degli schemi e le proprietà che possiamo che possiamo diciamo elencare qua sono gerarchica multi authority multi input multi client function hiding scalabilità revocabilità decifratura veloce e schemi unbounded che vuol dire che non scegliamo a priori la lunghezza dei vettori associati alla chiave segreta e al cifrato ma sono degli schemi in cui la lunghezza può essere unbounded illimitata quindi se ho tempo vi racconto brevemente qual è l'obiettivo di ciascuna delle altre ok allora per quanto riguarda la la functional encryption gerarchica immaginiamo che un utente possegga una chiave segretta per una certa funzione f allora utilizzando un quinto algoritmo che di solito si chiama delega può generare una chiave per una funzione più restrittiva f primo quindi se ci mettiamo per esempio nel caso del ciphertext polissiabe un utente che possiede una chiave segreta per un insieme di attributi k può generare una chiave per un sotto insieme di k quindi per un certo k primo sotto insieme di k e la chiave risultante deve essere all'apparenza identica rispetto a quella rilasciata dalla dall'autorità poi notiamo che in tutti gli schemi che abbiamo raccontato ora abbiamo supposto l'esistenza di un'autorità che inizializza il setup e distribuisce le chiavi segrete allora questo vuol dire che stiamo assumendo di poterci fidare di una terza parte fidata possiamo introdurre allora degli schemi in cui non c'è più solo un'autorità ma ci sono più autorità e queste autorità possono o inizializzare fare una prima fase di setup tutte insieme oppure possono addirittura generare in modo completamente indipendente le chiavi private e le chiave pubbliche senza nessuna interazione quando un utente vuole decifrare il un un testo un cifratto dovrà richiedere a un certo numero di autorità delle chiavi segrete ovviamente il numero dipenderà dal tipo di schema e combinando le varie chiavi segrete che ha ottenuto dalle diverse autorità potrà decifrare negli schemi invece di multi input negli schemi di multi input ci immaginiamo che la funzionalità non sia più una funzione che prende in ingresso solo kx ma prende in ingresso la chiave k e n plain text quindi negli schemi multi input quello che facciamo è avere a disposizione n cifrati e quello che otteniamo dalla decryption è la funzionalità calcolata in k degli n plain text notiamo che in questo caso i cifrati sono stati tutti cifrati rispetto alla stessa chiave pubblica in modo simile possiamo parlare dei multi client in cui abbiamo un unico input che possiamo chiamare x e un unico messaggio che possiamo chiamare x e quello che facciamo è suddividere il messaggio x in n parti quindi che chiameremo x con i e l'iesimo cliente avrà client avrà come compito quello di cifrare l'iesima parte del del messaggio rispetto a un un'etichetta comune a tutti i client un utente allora che possiede una chiave segreta rispetto a una k e possiede tutti gli n cifrati che sono stati calcolati dagli n client rispetto a una stessa etichetta può calcolare la funzionalità degli n x1 xn rispetto a k senza conoscere singolarmente i singoli pezzi x con i notiamo che mentre nel multi input però abbiamo detto attenzione i cifrati vengono cifrati tutti utilizzando la stessa chiave di public key in realtà nel multi client i client utilizzano oltre alla public alla chiave pubblica comune a tutti utilizzano anche una chiave di cifratura che è diversa ognuno ha una propria chiave di cifratura e il multi client in realtà si può anche considerare decentralizzato e cioè ci sono degli esempi di multi client decentralizzati in cui si rimuovono completamente le autorità che vengono sostituite dai client che collaborano insieme l'ultima proprietà che vi volevo raccontare sugli schemi è la function hiding allora quando parliamo di sicurezza degli schemi normalmente vogliamo che gli schemi non rivelino nessuna informazione circa il mio plaintext ma notiamo che in realtà c'è un'altra informazione importante che potrebbe essere rivelata ed è la la funzione associata alla chiave segreta soprattutto se le operazioni richiedo a un server di farle e quindi quello che voglio è la privacy della function dove per privacy della function se pensiamo agli schemi che abbiamo visto ora vuol dire la privacy o dell'identità che è dentro la mia chiave segreta o degli attributi o delle policy di accesso dei predicati e così via notiamo però che negli schemi che abbiamo visto finora vi è una cioè la la public key è a disposizione di tutti se vi ricordate nello schemino la public key veniva rilasciata al cloud cioè veniva adatta tutti hanno accesso alla public key in un setting di questo tipo la function hiding non è applicabile quindi dobbiamo modificare gli schemi e supporre che il che la 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 public key in realtà non sia pubblica e quindi o non viene assolutamente cifrata o non viene assolutamente generata nella fase di setup oppure viene utilizzata solamente da per esempio l'autorità quindi ricapitolando quello che abbiamo visto abbiamo visto che la functional encryption risolve alcune questioni della cifratura chiave pubblica come per esempio un controllo degli accessi a grana fine e quindi permette un controllo maggiore degli accessi al dato e poi ci permette in alcuni casi di calcolare una funzione del dato cifrato di schemi di ibe abe in letteratura e in applicazioni reali ce ne sono veramente tanti mentre per quanto riguarda gli schemi di predicate encryption con indice privato e di inner product data encryption ce ne sono tanti in letteratura un po' meno in implementazioni reali perché hanno un alto costo computazionale dal punto di vista proprio implementativo e inoltre se ci immaginiamo degli scenari proprio di applicabilità sarebbe utile avere schemi sicuri che permettano altri calcoli di funzioni sul dato cifratto qua ci abbiamo alcune referenze è impossibile riuscire a metterle tutte perché anche se è un argomento piuttosto recente in letteratura c'è veramente tantissima tantissimi articoli vi faccio notare solo il primo che è l'articolo in cui è stata formalizzata la functional encryption e l'ultimo che è un survey che stiamo scrivendo insieme a Irene e al professor Sala ed è in preparazione abbiamo concluso se avete delle domande siamo a disposizione grazie